lo scempio ecco voi in diretta lo scempio questo video non verrà pubblicato anche per il rumore del mulinello che non so se lo terrà lo vediamo è un bel barbo eccolo lì ora bisogna vedere se il pescatore inesperto e nudo riesce a guadinarlo io non capisco come mai continui a pescare vicino quando i pesci sono solo lontano potete vedere un primo piano del ramarro detto tamarro ecco che fa del stesso spinto sfrenato con la bocca del barbo intanto questo video non esce adesso il barbo verrà qua vicino a noi a salutarsi signor barbo ciao ciao signor barbaccio il barbo e adesso facciamo